Ragazzi anche il video di oggi è sponsorizzato da Pukki. Pukki è un gioco di pronostici calcistici, è simile a Sorare, funziona in modo molto simile, però anziché andare a prendere i giocatori, in questo caso noi andremo a fare i pronostici direttamente sulle partite, quindi sulle squadre. Io l'ultima settimana per intenderci ho fatto due pronostici, uno su Roma, Leverkusen, Juventus e Siviglia, che non ho indovinato per nulla, e in Serie A ne ho fatti tutti e dieci, perché generalmente per giocare al meglio qua bisognerebbe farne dieci di un'unica competizione, io poi avevo venti fumi in extra, ho fatto anche Europa League, già che c'ero. Ho indovinato Fiorentino-Odinese, Monza-Napoli, Monza-Napoli ci sono andato vicino, però alcuni le ho sbagliate di brutto. Anche Juve ci sono andato vicino, ho messo 2-0, ho fatto 3-0. Sono al momento in classifica 44esimo, quindi dovrei portarmi a casa più o meno 3 matiche, che sarebbe 3 dollari di price pool. Se volete giocare e provare anche voi Pookie, trovate il link in descrizione e quando vi iscrivete vi danno una Pookie Ball Rookie, che è gratuita e vi permette di giocare nella lega free-to-play, che trovate qui quella basic. Mentre se volete giocare al lega dove si vincono i primi, quelli un po' più grossi, perché nella basic si vincono i palloni, invece nelle lega un po' più grosse serve il pallone. Quindi o si gioca free-to-play nella basic per vincere il pallone, oppure il pallone lo si compra direttamente e per prendere direttamente lo trovate qui, cliccando su get a Pookie Ball. So che al momento sono sold out e generalmente martedì alle 11 escono, quindi il video oggi che è uscito a mezzogiorno, teoricamente dovrebbero essere ancora disponibili. Quindi se vi interessa le trovate per qualche ora, insomma se vi interessa il gioco provarlo. Comunque in ogni caso si può provare anche free-to-play con il link in descrizione. Vi lascio il video. Venderei Silas. Peccato che ci sia il ticket sul pezzo più brutto da comprare, però credo che il ticket sia comunque meglio di Battlecry in generale. È un discover. È un pezzo di un discover, quindi è come se vale un gold in più. Vale un gold in più perché hai il discover di Locanda, che vale 3, quindi hai un terzo di 3 che è 1, in più è un discover di un pezzo di Locanda, quindi è migliore. E in più in generale il pezzo ha una qualità più alta, l'1-4 rispetto al 3-1, che il 3-1 ti dà il gold di suo, ma l'1-4 appunto è un pezzo anche a tempo. 3-1 non è bello a T1. Sì, però se avesse avuto il token l'avremmo preso e tenuto in mano, no? Però sì, è tipo mozzo. Boh, mi sa che vado gli europei e la soglia blu la faccio quando ricomincio, ma sai che anche quella era la mia strategia? Hai visto che rimetteranno i bonus? Si, bella. Ma i bad li rimetteranno, li hanno nominati da, definitivamente, li rimetteranno. Questo è buono. E prendiamo sicuramente il Murlock 2-3, a meno che non vogliamo vendere 1-4 e salire di livello. Che non è neanche una bruttissima idea, dirla tutta. O se è il morto? La curator può sapere uguale? Col fatto che se è il morto, ragazzi, cioè, il discover al 3, ovviamente, è molto più forte. Stando qua, anche se avessi fatto 2-3, però devo sembrare, se lui era a build fortissimo. Ma la giocata è level up. Adesso mi becco il morto. Easy peasy. Prendo il 6-3. L'1-4. Rinvengo un servitore di locanda 3. Prenderò il secondo pollice verde. Non dovrebbe avere neanche un pezzo. Nel dubbio, tengo solo questo. Magari ha il 2-1. No, ma non ha niente tanto. Bene, quindi, ragazzi, qua abbiamo due pollici verdi e un 6-3, che ovviamente è diverso rispetto a che avere un 1-4 e un rock pull. Il vantaggio di salire al 3 è questo. E beccando il morto, ovviamente, qua, andiamo alla possibilità di solidificarci. Quando rimettono i demoni, i verospini e i robot? Prima, se non sbaglio, i demoni. Quindi circa, cos'è, tipo il 18 maggio? Poi a fine mese. E poi a fine mese i verospini e i mech. Allora. Questo si prende all'unica più grande. 21 come le sub gift che farò quando proverai MTG Arena. Così mi tenti, doctore. Così mi tenti, grazie. Allora, prendiamo 1-2-1. All. Banano. Allora. Ragazzi, canaglias comba con pollice verde infinito. Non posso non prenderla. Comba infinito. Posso al limite frizzare la banana, ma la canaglia se tu non l'hai presa. Solo mi tengo questo in mano. Anche così, va. Non è bello. Come la canaglia. Però siccome mi lasciate, mi chiama a gran voce il banano. Per il nostro maledetto banano. Vediamo se paga o non paga. Sembra che stia pagando. Allora. Il ratto va preso. Domanda. Va giocato anche? Allora, l'hop è salito al 4. Lo vogliamo fare 7-7. Non è che si raddoppia, ragazzi, quello che spone, eh. Perché altro attivo pollice verde giocandolo. Ho 23 di vita che è poco. Vediamo che mi rimane un altro turno. Meraviglia, è forte pompare l'atto. Però è forte. Se lo metto qua, questi attivano il banano. Secondo me è da giocare, ragazzi. Però non ne sono sicuro. Magari aspettiamo un turno. Dai. È andata grassa. Dopo è debolissimo. È andata bene. L'hop era veramente scarso. No, adesso mi vuole prendere il banano che se lo pigli. Ah, ragazzi, livello. Tengo il ratto in mano contro il morto. Cerchiamo un bana... Mama Bear, chiaramente. Che partita strana. Oddio. Oddio. Io non so se lo prenderei, ragazzi. Il 6-2. Però se lo evochiamo di... Ah, sì che lo prendiamo, invece. Anzi, vi dico di più. Non lo frizziamo e lo compro sto turno. È fortissimo. È voco il ratto. È voco il ratto che si era dopo le stats con banane. Sì che lo prendiamo. È fortissimo. Perché questo dice... Dopo che è stato evocato una beta sotto il tuo controllo, in combattimento ne era doppia le stats. E lui lo evoca durante il combattimento. In più scomba con questo. Che combo! Gigante. Gigante. Sarebbe da dare tauntal 6-3. Murloc bestie build. Murloc bestie build. La mia preferita. Hai buttato 3 gold per non buttare un gold? Non ho buttato nulla, in realtà. Ho speso... Ho venduto 3 pezzi. Tanto avrei venduto in ogni caso. Ho risparmiato il gold e roll. Ci sta a prendere 5-4-1-4? Secondo me si può fare. Discoveriamo, no? 1-4 è basta. Sì. Ci sta. Un altro 6-2. 1-3. Facciamo innanzitutto l'altro 6-2. Mama. Prendo scaglia brillante. Dà un scuo di vino al banano. Non è il massimo, ma non è neanche brutto. Prendo l'1-3. Roll. L'1-1. L'1-1 col ticket è buono, ma non riesco a prenderlo, giusto? Dovrei vendere troppi pezzi. Sta lì. Ma in realtà, ragazzi, io qua non vendo niente. Gioco la branchia a basso. Gioco il 4-6. I 6-2 evocheranno le bestie, presumo. Quindi facciamo questo qua. Gioco questo. Questo va qui. Stiamo fermi. Potrei prendere anche vedetta pin antica. In realtà serve giusto per riscoverare un altro pin lucida. Però se appare col token, si perde il 100% sia lui che Peggy. No, Peggy. Il murlo che si vende. Come si chiama? Barone ovviamente qua è fortissimo. In generale abbiamo una buona build. Come si prova, eh? Deo, che forte! Che forte! Bellissima! Peggy? Peschi si chiama. Esatto, l'abbiamo chiamata ed eccola qui. Si prende. Roll. Ma non si prende niente. Roll. Fuh! Questa grande. Dai, però. Siamo con orgoglio. A questo punto, feel free. Si prende sicuramente lui. Roll. Un altro 6-3. Si prende. Roll. Prendiamo duo. Su banane. Vendiamo 4-6, 1-4 e crotalo. E basta. E basta così. In generale sta build è strana, ma secondo me è efficace. Il duo dopo scegli un pezzo, lo devi tenere lì due turni e dopo due turni ti dà la coppia, ti dà un'altra coppia di quel pezzo. Quindi ci dà un'altra banane. Raga, ma due banane sono più forti di una dorata, per caso? Non è attaccare banano. Vabbè, che irattare, Bon. Può anche attaccarmelo. Perché triplato, tripla, invece che con l'altro quadruplicano. Come funziona la cutker? Certo, occupa uno spazio. Olè. Non credo che saliremo mai a 6 con sta build. Siamo contro il morto. Saliamo a 6? No, non saliamo comunque a 6. Prendo il secondo Raptor. Non credo valga la pena prenderlo, onestamente. Bella il cut, grazie del quinto mese. Anche se non conosco questo scioglilingue. Io non prenderei né Raptor, né livellerei, ragazzi. Cerchiamo banano, cerchiamo tipo di questo. Taunt. Senza ticket eviterai. Roll. Roll. Banano. Draccarim. Insano. Nera difficile chiedere di meglio. Banano con ticket che discovera Draccarim. Altro che level. Roll. Posso prendere un ticket. Oppure fare tre roll. Facciamo tre roll. Questo mi dà due banani, ragazzi. Quindi avremo la possibilità. Poi c'è pure Barun. Che shop delirio è questo? Hai buone possibilità di vincere. Pound no, perché ci sono pezzi più forti. Tipo quelli che abbiamo trovato. È un po' fanta BG, sono d'accordo, sì. Dio, cosa mi fa perdere un sacco di tempo. Triplerà quella corrinascita o quella base? Questa è una bella domanda. Secondo me quella... Dovrebbe... Quale corrinascita in teoria, no? Perché in campo... Allora, questo si prende. Grazie mille, a bau giallo. Ottavo mese. Thank you. Coiler. Sì. Poi. Allora, giochiamo questo. Oddio, letta prendo questi due roll. Un anno col bomber. Grande uomo. Ti voglio bene. What the fuck. Allora, la banana... Secondo me la banana va presa. Grazie mille, anche accedo. Un anno di sub. Grazie mille. Io, ragazzi, il murlock forte o non forte, non lo so. Si poteva stare. Però ha una build bestia qui. C'è da solo draccari. Vogliamo fare l'altro Coiler sempre su... L'altro Reborn sull'altra banana, sì. Oh, merda. Forse è un po' troppo gridi. Tenere duo. Mi sa di sì, eh. Devo trovare cavallo, ragazzi, sì. Non funziona. Oddio, gridi mica tanto. Cioè, alla fine ne evocavo quattro di pezzi. Cioè, ci sta a tenere quattro in mano, come ho fatto. Ovviamente con... È stata fortissima sta play. Altro che... Il murlock, ragazzi, secondo me era inutile. Come vedete, evoccare il Coiler della mano è stato infinitamente più forte. C'è una bastione sicura che sia stato corretto prendere il Coiler. C'è una bastione sicura che sia stato corretto prendere il Coiler. In questo momento cerchiamo... Blanchi. E ovviamente questo anche. Anche se... Su chi lo tireremo, questo qui? Cioè, noi tripliamo un'altra banana. Vogliamo triplare branchi a basso. E lo si prende. Questo qua, Crotelo. Allora, noi rimaniamo questi due. Al massimo questo si potrebbe triplare. Dovrebbe un Taunt a dare su pinna lucida. Gioca a sei pezzi, tipo, no? Ma una certa. Devo giocare tipo a sei pezzi. Con solo questi due qua. Barone. Tripla di Stotizio. Ma il Crotelo, ragazzi, non so su cosa si possa tirare. Secondo me non si tira su niente, rollo. Eh, la madonna. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Ah, ci sta il 3-2 Taunt. Devo frizzare il 3-2 Taunt, non è stato in tempo. Eeeh. Se non mi attacca il banano, ecco. Vabbè, raga. Allora. Mi serve un Taunt. Prima volta che faccio sta build, eh. Incredibilmente. Eeeh. Mi serve Taunt da mettere a questi qua che spawnano. Poi gioco un altro banano. Così, per esagerare. Vendo ovviamente quello che buffa, che non serve più. Direi che ha buffato a sufficienza. Poi, beh, fa sempre lo stesso. Mamma bear. Serve la mamma? Serve la banana, ragazzi. Pare che sono cediti 5 ticket. Banana con ticket. Beh, la mamma con ticket la prendiamo, anche se non serve. Dobbiamo discoverre la tripa di Baron. Cosa serve qui, ragazzi? Altre banane, cosa serve? Taunt serve. Roll. E blanchi. Taunt. Allora. Questo salta. Questo entra. E lo facciamo sul Murlock. Poi. Adesso si gioca. Facciamo a taunt anche sull'altro. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Si frizza? Oddio. Hai la vittoria in pugno. Sei in prima posizione. Ovviamente nello scontro finale, Barone, ragazzi, devo farlo saltare. Mi serve un quarto pezzo. Non serve neanche far saltare al Barone della mano. Mi serve un quarto pezzo con più vite. Questo ha senso frizzarlo? Eh sì. Cioè, ne se frizzarlo, tripla. Ma questa è roba forte. Liberano spazio. Tripla di Coiler. Tripla di Coiler. Forse è un bait, invece. Mi evoca Coiler. Oddio. Forse non è un bait. Il discorso è che lo devo tenere in mano e non ho altre bestie. Andiamo tipo, vai. Andiamo questo, che è un ticket. Cavallo. Prendiamo comunque Crocolisco. Allora, lui mi evoca quelle con più salute, che sono... Cioè, il Barone e la Coppia. Devo far saltare di Barone, non ho spazio. Non so neanche se abbia senso tenere ancora lui, ragazzi. Posso mettere il Barone qui e poi metto... Devo far saltare il 14-8. Roll. Adesso ci sta. Gli faccio saltare il Barone, era un po' più forte, perché almeno evocavo... Non evocavo Barone, ma evocavo tutte bestie. Comunque, direi che... Secondo me basta. Anzi, a dirla tutta... Forse conviene giocare senza il ban... Senza questo? No. Oddio. Perché comunque evoca solo tre bestie. Quindi solo tre bestie mi servono. Triplare Barone è inutile. Visto che tanto non ho spazio. Quindi tanto vale venderlo direttamente. Devo trovare Blanche oppure un altro Raptor. Comunque, dai, dobbiamo trovare il cavallo che raddoppia le stats quando entra. Roll. Che poi quando si rievoca tutti i buff identici. Questo non ha senso. Questo. Eccolo. Eccolo. Allora, lui evoca tre. Lui evoca tre. Quindi io faccio saltare Barone, Mama e Crocolisco. E mi tengo questi tre in mano. Sta, no? No, la beffa! Eh, vabbè. Non avevo più gol per prenderlo. Vabbè, vediamo cosa succede. 54, 54, 54, muore ed entra come un 1026, 972. Balanced. Eeeh. Olè. Madonna, stasera ragazzi stanno venendo fuori delle partite incredibili. Partite così incredibili che il tracker non sta neanche salvando. Eeeh. 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 Anche dopo questa partita non avevamo ancora fatto le bestie perfette, con le banane. Eh, questa è roba forte. Eeeh. 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 Grazie a tutti